Non è l'inflazione per una volta a dominare la scena dei dati settimanali dell'Istat. Si impone infatti oggi 29 luglio il prodotto interno lordo che nel secondo trimestre ha segnato una crescita congiunturale dell'1% e una crescita tendenziale del 4,6% nelle stime preliminari che ha diffuso l'Istituto. Si tratta della variazione positiva del sesto trimestre consecutivo ed è dovuta per lo più alla componente nazionale mentre quella estera ha dato un contributo negativo. Dicevamo dell'inflazione, l'inflazione nel mese di luglio ha invece segnato una variazione congiunturale dello 0,4% e del 7,9% su base annua rispetto all'8% di giugno per l'indice nazionale NIC mentre l'indice armonizzato dei prezzi al consumo IPCA è calato su base mensile dell'1,1% a causa della stagione estiva dei saldi di cui il NIC non tiene conto ed è aumentato dell'8,4% su base annuale dal 8,5% del mese precedente. Sembrerebbe dunque che siamo forse entrati in una fase di plateau, abbiamo raggiunto un picco forse nella crescita dei prezzi, se lo aspettavano molti analisti vedremo cosa succederà nei mesi a venire. Intanto possiamo confermare che il rallentamento che si è registrato nel mese di luglio dei prezzi energetici non ha fermato la corsa negli altri settori. Il cosiddetto carrello della spesa che già a giugno aveva superato l'indice nazionale ha registrato una variazione del 9,1% facendo segnare un aumento che non si osservava dal settembre di 38 anni fa. L'inflazione acquisita per l'anno è al 6,7% per l'indice generale e 3,3% per la componente di fondo. La crescita acquisita del prodotto interno lordo è invece al 3,4%. Grazie per la visione! Grazie!